Modena quartiere Sant'Agnese oggi vi presentiamo una vera chicca abbiamo trovato per voi un immobile quasi introvabile villino indipendente con giardino composto da due unità immobiliari una piano terra e una piano primo l'appartamento al piano terra è composto da ingresso salotto cucina abitabile con accesso diretto al giardino, tre camere da letto, una stanza armadi e due bagni al piano primo un secondo appartamento composto da ingresso salotto cucina due camera da letto e bagno e soprattutto un bellissimo terrazzo al piano di sopra una grande mansarda con lavanderia per i postigli abbiamo visto un delizioso villino degli anni cinquanta con due appartamenti e giardino nella posizione più bella di Sant'Agnese e il prezzo è speciale 560 mila euro